Allora ricordiamo che saranno tre riprese da due minuti, il vincitore passerà il turno successivo e andrà a sfidare per il zone. Ricordiamo a dichiarico da Bari, seguito all'angolo da Marioni Sansanelli e Gico, seguito all'angolo del maestro gravante di Napoli, scusate caserno, vediamo che in questi incontri sono autorizzate le gomitate e come vedete non ci usano i paragonidi, ma saranno gomitate, questo sarà l'incontro il vincitore di questi due, tra questi due atleti andrà a sfidare Damiano che arriva da Treviso. Facciamo un applauso a questi due atleti? Sì, fanno, rinascaranno, fanno. Sì, un attimo. Comitante autorizzate, prima ripresa, one time, full run. Vai Gico! Vai Gico! Vai Gico! Vai! Vai Gico! Porta Antonio vai! vai Gito vai vai Gito vai Gito vai Gito vai vai Gito vai Gito Gito corto vai Gito 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 dai zucco dai zucco dai zucco dai zucco dai Noi uccisi dai dati non continui Vai, dai, 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 dai Vai, 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 vai Vai, p***o P***o Vai, p***o 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 Vai, vai Merdito Vai, p***o Vai, p***o Vai, p***o Merdito Vai dito 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 Voi! 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 Cicco! Cicco! Voi! Voi cicco! Voi! Vai! Voi cicco! vai 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 Chico vai Chico vai Chico Chico vai vai Chico Paggianto! Vai! Vai! dai, 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 fine della terza riprenda, allora volevamo ricordare un attimino, prima di aver detto i titoli, insomma, di Ginko, Ginko è un nuovo ingresso nei pro, oggi è il suo primo ingresso nei professionali, si è un altro spettacolo, mentre Claudio di Chiarico già qualche anno ci dà grandi soddisfazioni, è stato in nazionale italiana, comunque ha vinto parecchi incontri, noi ricordiamo il coraggio di entrambi, si sono misurati qui e prossimamente faranno la sfida, dopo gli altri incontri, la sfida finale, per aver detto unanime passa questo turno e va in finale angolo rosso, un applauso a tutti e due, complimenti. Grazie.